Uno scrigno, una bomboniera, una scatola del tempo in cui la magia del teatro, della musica e delle arti figurate si rinnovano ogni volta che il drappo rosso del sipario si apre. È il piccolo teatro a pollo di Mondavio, prima rappresentazione gennaio 1887, 80 posti, due ordini di palchi ed un piccolo loggione non praticabile. Una delicata e rispettosa presenza nella piazzetta su cui impone la maestosa rocca controbilancia così la rude maschia arte guerresca con la forza e la poesia della recitazione. È una struttura dell'Ottocento che è stata ristrutturata dalle amministrazioni precedenti, inizialmente con i fondi del terremoto, poi grazie a un contributo europeo, è stata riaperta nel corso del 2010. Da lì è nata inizialmente una collaborazione con Amat e negli anni, da parte dal 2016 si è ulteriormente arricchita la stagione di questo teatro grazie a un progetto di ragazzi del nostro territorio che hanno costituito un'associazione, gli Asini Bardasci, che da ottobre ha dato via una stagione molto ricca di eventi e di iniziative. Ora questo gioiellino di famiglia è stato arricchito dalla forza espressiva e dal fuoco sacro del teatro che arde in tre giovani attori di Belle Speranze che hanno allestito un cartellone ispirato alle loro esperienze teatrali. Abbiamo chiuso benissimo il 2016 con tre spettacoli all'attivo, tanto pubblico che ha partecipato, tanto territorio, tanto comune di Mondavio che è entrato per la prima volta, chi continua a tornare, a spargere la voce, quindi la nostra programmazione fino al 30 aprile e stiamo andando bene. Secondo noi per tenere vivo un teatro come questo era necessario attivare il territorio e infatti l'evento più bello è stato il Varietà Natalizio dove abbiamo unito la nostra sapienza insieme a quella di altri artisti del territorio ma anche di abitanti del territorio che con noi hanno partecipato allo spettacolo. Stiamo cercando di partecipare attivamente alla rieducazione di un pubblico che possa tornare con entusiasmo a teatro e se non siamo noi i primi a comunicare questo sentimento di partecipazione non vediamo come poter ottenere una risposta vivida. Prossimo appuntamento 28 e 29 gennaio con l'anteprima nazionale di Alessio Martinoli, attore fiorentino che porta in scena un progetto che parte dal Deserto dei Tartari di Buzzati. Esperimento deserto, uno spettacolo che è partito dal Deserto dei Tartari di Dino Buzzati e parla di un uomo che dopo aver finito di leggere il libro si trova a fare questa serata normale, quasi mondana e scopre che alcune frasi del libro ritornano nella sua vita, quindi nasconde una paura di morire. Sì, veramente al dialogo con gli abitanti non saremmo riusciti.